buongiorno come state buon lunedì inizio settimana io a fare qua il mio poco di movimento stamattina con rasti infatti se tutti i suoi amici a quattro zampe lì c'è la kimba nikita jago lena intanto si divertono io poi dopo vado alle poste che mi stanno chiedendo dei campioni dei trials per provare la sfida e ovviamente io li accontento come state buon inizio lunedì buon inizio della settimana qua si sta benissimo c'è un sole qua oggi siamo al giorno boh non 20 17 18 della sfida per dieci giorni ovviamente la mia sfida continua la mia continuerà fino 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 all'estate sicuramente ecco guardate che bellissimi come giocano non so se si vede basti con i suoi amichetti sono due femmine contro erastiche maschio e giocano ben volentieri allora stavo ascoltando marco montemagno chilo chi lo ascolta chi lo segue marco montemagno mi piace tanto l'italiano e lo sento anche in inglese ovviamente quando parla con alcuni ospiti illustri e commentavo questo weekend ho visto il film di wonder woman www 84 chi l'ha visto cosa ne pensate poi darò la mia recensione però l'ho visto insieme ai miei figli e mamma guardiamo facciamo un beach washing di wonder woman ok intanto l'abbiamo visto sabato sera adesso vi saluto continuo con la mia passeggiata che poi devo andare alle poste a fare delle con sé diciamo le spedizioni per trials campioni shape e vi auguro una bellissima giornata ciao 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 ciao